Bilanci ASL, Project Financing, perché il centrodestra giudica disastrosa la gestione della sanità in Abruzzo-Febbo? Guardi, andando lo giudichino i cittadini, credo che su questo ci sia poco da dire. Bilanci e ASL sono una disdetta, chiudono con 39 milioni di perdita, su cui peraltro io ho molte cose da dire, molte cose da verificare perché secondo me la perda è molto, ma molto superiore. Ce li hanno appena consegnati, abbiamo visto dei dati che non ci convincono. Disastrosa perché basta leggere il verbale del tavolo di monitoraggio che ci viene notoriamente consegnato con molto ritardo dopo mie ripetute sollecitazioni. Pensate che sulla programmazione 2016-2018 su 217 OPSOT, così come vengono chiamati dal Ministero, non è stato realizzato uno. 114, cioè il 53% sono in ritardo, gli altri 103 sono praticamente inesistenti. Quindi veramente credo che ci sia da essere allarmati. A questo aggiungiamo che nel frattempo sui territori, qualche giorno prima delle elezioni, del 4 marzo, si diceva che i 4 ospedali, 5 nuovi ospedali erano oramai cosa fatta, che mancava solamente una firma. Passate le elezioni questa firma non c'è stata, non si parla di nulla dell'ospedale di Popoli, non si parla dell'ospedale di area disagiata di Atese e potrei continuare con il punto nascita di Sulmona. Invece si fa una delibera, che non si capisce a che prova viene fatta, per quanto riguarda il project financing dell'ospedale di Chieti, dove si annunciano 30 milioni, ma non si capisce dove vengono presi. Mancano le firme di tutti i dirigenti del bilancio, sia di quello della Regione, sia quello del GSA, ma la cosa allucinante è che si dice che l'Alz di Chieti si dovrà fare carico di un canone annuo di altri 16 milioni di euro con una perdita acclarata oramai di 20 milioni. Io credo che veramente è ora di finirla con questi annunci, è ora di dare le dimissioni, è ora di cambiare ritmo a questa Regione e soprattutto di dare delle risposte ai nostri concittadini.